Continuiamo con la sanità, in particolare con la medicina. Di pochi giorni fa la notizia del decesso di una ragazza morta in seguito al consumo di un tiramisù. La ragazza era intollerante al lattosio e questa notizia sicuramente ha sconvolto e preoccupa molto tutte le persone con intolleranze. Se vogliamo allora provare a fornire le giuste rassicurazioni, i dettagli tecnici e clinici rispetto a questo problema, come rapportarsi in caso di situazioni di intolleranza, lo facciamo con il presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, il professore Ostachio Nettis. Benvenuto. Buongiorno ai telespettatori. Tanto qui va fatta chiarezza. Un conto è parlare di intolleranza al lattosio e un conto è parlare di allergia al latte vaccino. Questa ragazza purtroppo era affetta da questa allergia al latte vaccino, che è un'allergia piuttosto rara, che può colpire sia i bambini sia gli adulti. È un'allergia che nei primi anni può colpire il bambino, ma può risolversi spontaneamente. Quando colpisce l'adulto tende a persistere per tutta la vita. È un'allergia che ha un quadro sintomatologico più vario, fino ad arrivare ai pochi casi di shock adafidattico, di shock adafidattico, alcuni dei quali possono esitare con un decesso. Professore, prima di continuare, la interrompo per fornire un giusto chiarimento a chi ci segue. Ha fatto riferimento alla differenza tra allergia al latte vaccino e l'intolleranza al lattosio. In che cosa consistono queste differenze? Sì, le allergie vere e proprie riguardano il sistema immunologico, che in alcuni casi può produrre delle IgE, degli anticorpi specifici, contro le proteine del latte. Diverso è il discorso della intolleranza al lattosio. L'intolleranza al lattosio è una malattia piuttosto comune, che interessa bambini e adulti, ed è caratterizzata dal deficit di un enzima, l'enzima lattasi, che a livello intestinale, essendo insufficiente, non riesce a degradare il lattosio che è contenuto nel latte o nei derivati del latte. Ne consegue che i sintomi sono piuttosto non da considerare gravi, ossia l'intolleranza al lattosio si manifesta con gonfiore addominale, dopo aver ingerito latte o derivati, gonfiore addominale, dolore addominale, nausea, diarrea, vomito. Quindi sono dei sintomi che, peraltro, possono essere, in alcuni casi, dose dipendenti, cioè dipendono dalla quantità di latte che viene ingerito. Quindi più gestibili, non con conseguenze fatali. Assolutamente, disturbi gastrointestinali. Diversa è l'allergia al latte di cui soffriva questa ragazza. L'allergia al latte è piuttosto, appunto, detto piuttosto rara, e in alcuni casi purtroppo può portare al decesso. Quindi abbiamo rassicurato sicuramente tutti quelli che confondevano l'intolleranza al lattosio con l'allergia al latte. Professore, in questi rari casi, che cosa occorre per far fronte a un incidente di questo tipo? Bene, innanzitutto chi è sofferente di un'allergia al latte, di una certa gravità, dovrebbe sempre stare attento alle etichette, alle etichette che riportano il nome degli ingredienti. Quindi stare attento se l'alimento in questione contiene, appunto, latte o tracce di latte. Tuttavia ci possono essere etichettature sbagliate, o comunque non tutti gli alimenti possono portare l'etichettatura sull'alimento stesso. Quello che bisogna fare poi è stare attenti alle contaminazioni che avvengono quando viene trasportato il latte, frazione di latte, in un altro cibo. Pensiamo ad esempio quando si taglia un formaggio e con lo stesso coltello si taglia un panino. E infine la cosa più importante è che questi soggetti devono portare sempre con sé l'adrenalina autoiniettabile. È un farmaco che viene somministrato e deve essere somministrato immediatamente in caso di reazione grave dal paziente stesso, viene somministrato con una puntura a livello del muscolo, della coscia, e che è da considerarsi un vero e proprio salvavita. Infine, professore, per quanto rara l'allergia al latte vaccino, come si scopre? L'allergia al latte vaccino si scopre intanto tenendo conto dei sintomi, dei sintomi che sono sintomi, detto variabili, dal prurito che si può avere al cavo orale, ai disturbi gastrointestinali, ma soprattutto sintomi cutanei, orticaria, angioedema dopo l'ingestione di latte, fino addirittura allo shock al filattico. Dopodiché ci si sottopone a dei test specifici, test allergologici, che consistono soprattutto nei test cutanei, in cui si utilizzano estratti di latte, in questo caso per vedere se è un soggetto allergico, in seconda battuta test sierologici, cioè si fanno dei prelievi per evidenziare quegli anticorpi IG specifici che vanno a legarsi alle proteine del latte, esami più particolari, come sempre attraverso un prelievo, noi andiamo a vedere se ci sono anticorpi contro delle particolari componenti allergeniche del latte, questa è la diagnostica molecolare, però il gold standard rimane, ma si fa solo in pochissime situazioni, il test di provocazione orale, il doppio cieco contro placebo, cioè si somministra il latte, chiaramente in casi selezionati, in casi molto particolari. Grazie, grazie allora per questi garimenti al professor Eustachio Nettis, presidente della società italiana di allergologia, asma, immunologia clinica. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te.